Guida veloce, allora il primo si troverà esattamente in questo punto, basterà prendere questo xp viola, il secondo si troverà esattamente in questo punto e il terzo invece qui, come state vedendo. Allora, il quarto si troverà invece in questo punto. Il quinto aborgo bislacco, ovvero qui. Il prossimo qui, eccolo qua. Poi passiamo al settimo che si troverà nella cuccia del cane. Passiamo subito all'ottavo, si troverà qui sopra. Basterà rompere questo vaso e l'xp uscirà fuori. Il nono esattamente in questo punto, il nono, il decimo esattamente in questi punti che vi sto mostrando, basterà prenderlo, sarà molto molto facile. Anche qui basta che rompiamo e troveremo il prossimo xp.